Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo condividere con voi un'altra notizia che sta facendo riflettere molto. L'ex segretario di Stato Colin Powell, un uomo di 84 anni, completamente iniettato, è deciduto nei giorni scorsi, adesso non ricordo esattamente quando, però comunque qualche giorno fa è deciduto a causa di complicazioni da questo male. Ne stanno parlando molti siti di questa notizia perché alcuni ovviamente si interrogano e dicono ma com'è possibile? Cioè si parla comunque di una persona completamente iniettata, noi sappiamo ovviamente che è possibile, perché giustamente non siamo così folli da abboccare ai loro ami marci. Però insomma, molte persone si sono dette, ah com'è possibile? Qui ci dite che noi ci facciamo iniettare, ovviamente lo ripeto, lo ripeto, io non mi fido assolutamente di questo. Queste iniezioni, questi sieri potrebbero, loro dicono che non è che rendono immune al 100%, però nel momento in cui tu contrai questo male, lo contrai in modo veramente molto molto lieve, no? E invece dall'altra parte ci sono testimonianze che ovviamente non vengono prese, ma figuriamoci in considerazione dai media convenzionali, che ci dicono che molte persone, anche giovani, io ho veramente letto di una ragazza di 33 anni, è seduta in seguito a queste iniezioni. E quindi c'è qualcosa che non va, non sono poi così tanto sicure, e bla 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 bla, e soprattutto le persone devono essere libere di scegliere. Comunque lui è stato per molto tempo un uomo del culto, sotto comunque il nome di George W. Bush, lui ha avuto anche un ruolo molto importante nella rielezione di Obama, insomma, molte cose. Allora, queste iniezioni non avrebbero proprio, mi scrivo qua, no? Queste iniezioni non avrebbero proprio lo scopo di impedire tutto questo, di far contrare forme di contagio lievi, quindi come? Voglio dire, una persona di 84 anni, perché qui si parla comunque di un uomo di 84 anni. e queste iniezioni vengono fatte adesso, per esempio, la dose del pifero, sapete a cosa mi sto riferendo, la stanno facendo già la terza del pifero, ai soggetti sensibili. Io mi sono veramente ormai arresa in casa con i miei quando vengo qua a parlare, perché, per esempio, mio padre, io vi ho raccontato, il mio padre che ha un cancro ai polmoni, e questa dottoressa, questa oncologa, l'ha chiamato dicendo che era in lista per ricevere la terza dose del pifero. Il mio padre, ovviamente, ha accettato. Quando voi mi dite come posso fare con i miei genitori e non mi danno ascolto, ragazzi, io nella stessa situazione vostra sono. Io sapete quante volte ho cercato di parlare, ho cercato di spiegare, ho cercato di far capire. Ad un certo punto, ragazzi, mi sono arresa, ma non perché non amo i miei genitori, ma semplicemente perché mio padre è proprio fisso. Ma non è che io non amo i miei genitori, perché li amo, però dall'altra parte sono arrivata, ho raggiunto una consapevolezza tale da dire che è una loro scelta. E io, più di dire quelle che sono le mie ragioni, più di farli ragionare, non posso fare niente. Ad un certo punto, quello che, ragazzi, non siete solo voi a vivere certe situazioni, capite? Perché anche io a volte quando vengo qua mi sgolo, mi sgolo per cercare di far capire le cose, però non vengo ascoltata. Non vengo ascoltata o comunque dopo aver parlato, magari o mi si interrompe, oppure tanto io la penso così. E vabbè, io non è che posso trascorrere la vita intera a perdere energia positiva, per cercare di spiegare cose a delle persone che sono così. Non per offendere, non per dire, perché qui, per esempio, io vi ho portato l'esempio di mio papà, io assolutamente ero contro, no? Anche perché lui prende tanti altri farmaci, insomma, ragazzi, non sto qui a dirvi. Comunque chi ha una persona che ha questo tipo di malattia sa, no, che tra chemio e cose, cioè io sono preoccupata, no? Non vivo bene questa situazione, ma come posso viverla bene? Lui l'ha fatta la terza, non ha avuto nessuna complicazione, però io dico, appunto, queste terze le stanno facendo inizialmente, adesso ai soggetti sensibili, come per esempio agli anziani o anche ai malati, no? E non dovrebbe proprio essere... Nel senso, se per esempio, ora lasciamo il mio esempio personale, però c'è un nonno, no? Io faccio iniettare questa cosa a mio nonno, perché è un soggetto sensibile, secondo me è un anziano, e poi questo nonno, perché lui potrebbe anche essere il nonno di tutti noi, io ho un nonno così, non lo vorrei, però, potrebbe essere il nonno di tutti noi, di 84 anni, tu puoi, voglio dire, puoi andare via, puoi morire per molti altri problemi di qualsiasi altro tipo, legati alla vecchiaia, al cuore, eccetera, eccetera, ma morire proprio a causa di complicazioni dovute a questo male, nonostante si è completamente iniettato, mi sembra un po' strano, no? mi fa un po' riflettere, mi fa un po' pensare, perché facciamo finta, nel senso, no? Penso, ok, se tu mi stai dicendo che, esempio, io a mio nonno, che è molto anziano, ho 84 anni, devo fare queste iniezioni per cercare di farli, di renderlo un pochino immune a questo, e anche se lo contrai, comunque mio nonno campa, e poi vengo a sapere di questo Colin Powell, ho 84 anni, che, voglio dire, muore proprio a causa di complicazioni dovute a questo male, che le iniezioni avrebbero dovuto evitare, insomma, te le fai due domande, come? Ti fai le iniezioni, però poi muori a causa di complicazioni dovute alle stesse iniezioni, dovute allo stesso male che queste iniezioni avrebbero dovuto impedire di, non ha senso, niente ha senso, comunque, in una dichiarazione che annunciava la sua dipartita, la famiglia Powell ha precisato, ha tenuto a precisare che lui era completamente iniettato, e ha confermato anche la famiglia stessa che lui è proprio deceduto a causa di complicazioni legate proprio a questo male, quindi è stata proprio anche la famiglia a confermarlo, e capite ancora una volta che è un po' un paradosso, cioè è un po' un paradosso, a che cosa servono, mi chiedo allora questi ieri, a che cosa servono se le persone, una volta che se molte persone se li sono fatti e comunque non ci sono più, molte persone anziane purtroppo stanno unendo, noi sappiamo quello che è il loro piano, vi ho parlato delle Georgia Guidestones, il loro obiettivo di depopazione, guarda caso, chi colpiscono, Pavel ha servito come segretario di Stato ve l'ho detto sotto George W. Bush durante la guerra in Iraq e nel 2012 ha approvato anche la rielezione di Barack Obama, quindi diciamo che sì, si può parlare di un uomo della cricca, però io adesso non vi ho voluto portare il suo esempio con cattiveria, perché qui adesso sta parlando il mio lato umano e come come molti mi chiedo a questo punto al posto suo ci potrebbe essere magari il nonno di qualcuno o un altro 84enne e quindi nel senso quale validità possono avere queste iniezioni, quale validità possono avere queste iniezioni su questi soggetti sensibili in realtà? La verità? Le persone hanno il diritto di sapere la verità ma scordatevi, nel senso che se cercate la verità nei canali pubblici, se cercate la verità attraverso i media o comunque i corrotti del sistema che poi li trovate ovunque nella scienza e la medicina ovunque, allora scordatevi la verità perché nessuno ve la dirà ma figuriamoci se realmente uscisse tutto quanto tutto quello che c'è da sapere riguardo a queste iniezioni. Aiuto! Aiuto! e la cosa che vi deve ancora fare riflettere è che quando ancora di questo male non si parlava molto già lì stavano costruendo mattone dopo mattone i loro imperi riguardo le iniezioni riguardo i bavagli scusami no? Ma se tu non sai niente di questo male se tu dici di essere stato colto proprio di sorpresa da questo male come mai metti il suo in piedi industrie per fabbricare i bavagli? voglio dire se io sono completamente non so niente di un male evito evito di mettere su un'industria di bavaglio perché questo male come è venuto potrebbe pure sparire nel giro di tre mesi e poi io con questi bavagli che faccio? Non è che vivo in Cina che devo mettere il bavaglio ovunque quindi se loro ragazzi avevano già pianificato tutto nel 2019 già si parlava di Gates che nel 2017 ragazzi sono uscite delle dichiarazioni legate al 2017 in cui se non ero proprio Fauci diceva che il mondo avrebbe incontrato una forte epidemia voi come fate a saperlo? forse perché siete stati voi a diffondere tutto questo? problema reazione soluzione per arrivare proprio alla soluzione finale quindi iniettare la popolazione mondiale perché chissà che cosa c'è là dentro boh facciamo i fintitonti ok facciamo i fintitonti questi sono soltanto favole frottole di una mente malata io di una complottista che vede tutto il marcio nel mondo e vai basta vediamolo sempre in quest'ottica così negativa perché noi siamo pazzi svitati ragazzi fortunatamente siamo pazzi svitati e così ragazzi è una cosa grave è ovvio che una persona se le fa queste domande mi dici che a mio nonno esempio devo fare queste iniezioni per evitare che muoia e poi muore proprio a causa di complicazioni legate al male cosa c'è che non va tante cose ma vabbè non ce le diranno mai le dobbiamo scoprire da soli e come si scoprono le cose abbandonando l'ignoranza informandosi e quanti sono disposti ad informarsi pochi molto una veramente una minoranza che spero un giorno possa diventare maggioranza la speranza è l'ultima a morire a volte però io ho questa speranza in momenti di di affaticamento energetico ormai come se l'avessi accantonata ma penso che capita un po' a tutti ragazzi non è che io vivo proprio pensando al futuro pensando alla situazione non è che io vivo ogni giornata speranzosa si si cambierà 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 perché poi vedo comunque quello che accade come si va a dire che cambierà se la maggior parte delle persone stanno così si hai ragione si lo devo fare sono come dei robò le persone ormai quindi che cosa ne pensate voi quello che è accaduto a Colin Powell vi puzza un po' di bruciato non lo so fatemi fatemi sapere tutto quello che volete perché poi dall'altra parte io dico se loro vogliono rendere credibili sempre più queste iniezioni come mai hanno dichiarato che questo Colin Powell è deceduto a causa di complicanze legate a questo male visto che loro sono dei maestri nell'inquinare le prove o magari nel dire bugie avrebbero pure potuto dire che questo Colin Powell è deceduto a causa magari di che ne so di qualcos'altro per non destare dubbi e invece qua la famiglia ha proprio dichiarato questo che lui è deceduto a causa di complicazioni legate a questo male come la interpretate voi ragazzi so che non c'è mai da fidarsi di questo sistema quindi chiedo a voi che cosa ne pensate fatemi sapere tutto quello che volete sotto nei commenti vi auguro un buon proseguimento di giornata e noi ci vediamo alla prossima